Ci aspettiamo quello che succede ai nostri concerti, ovvero che la gente canti con noi, non siamo noi sul palco e la gente sotto il palco, ma siamo un tutt'uno, noi e la gente, quindi ci aspettiamo solo che la gente canti. Quello che è cambiato non l'abbiamo visto perché la frenesia delle cose è rimasta uguale, la presenza dei ragazzi che è fantastica, ti alza veramente il mood, è meraviglioso vedere tutti questi bimbi e ragazzi tutti insieme felici, contenti e entusiasti. Questo è il bello che è rimasto. Ma perché abbiamo sempre cercato negli anni di uno di non prevalere sull'altro, comunque quando eravamo in quattro di cercare di ognuno di portare il proprio contributo a una canzone. Poi è chiaro che un'idea, un testo, un mood, un beat può arrivare da uno piuttosto che da un altro, ma cerchiamo sempre di portare le nostre idee, la nostra voglia di fare musica cercando di rimanere comunque sempre noi stessi, quindi senza cercare di prevalere l'uno sull'altro. Poi durante gli anni si creano degli equilibri, perché stare in una band la gente non lo sa, non è poi così tanto facile, devi comunque cercare di creare degli equilibri giusti. Ti ripeto, l'entusiasmo, l'entusiasmo di questi ragazzi che cresceranno, che hanno sicuramente tanti talenti, che dovranno svilupparli, che dovranno prima riconoscerli e poi tirarli fuori. Io ho un bimbo di tre anni e mezzo e piano piano vedo che da lui escono dei piccoli talenti, delle piccole cose, e li lascio venire fuori. Immagino che tutti questi bimbi, tutti questi ragazzi dentro avranno qualcosa. Sicuramente l'amore, probabilmente l'amore per la musica, l'amore per il cinema, e dovranno tirarlo fuori e diventare parte di questo mondo e apportare a questo mondo il grandissimo talento che avranno.